La valutazione finale assegnata a questo articolo di Korg è di 9 voti su un totale di 10. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Ottimo rapporto qualità prezzo. Stile, per principianti. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. Orla SRL ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 9.4 su un totale di 10 punti. Risulta essere al momento il prodotto più regalato. Questo è un prodotto sicuramente tra i migliori attualmente sul mercato e si propone come una delle migliori soluzioni del settore. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. Il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di Yamaha è di 9.4 su 10. Risulta essere il migliore di questa selezione. Le sue principali funzionalità sono. Per principianti. Ottimo rapporto qualità prezzo. Stile. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video. Il voto complessivo di questo articolo di Casio è di 9.2 su 10. Ha per il momento il miglior rapporto qualità prezzo. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono. Facile da montare. Stile. Ottimo rapporto qualità prezzo. Per principianti. Leggero. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Questo prodotto realizzato da Yamaha ha conquistato una votazione di 9.2 su 10 punti totali. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Si tratta di una delle opzioni di acquisto più diffuse e apprezzate dagli utenti, come testimoniano le recensioni più che positive da parte di chi l'ha provata. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Grazie a tutti.